A cena, moglie, marito e ragazzino di otto anni, la madre aveva fatto il minestrone e sto ragazzino non ne voleva sapere mangiare e dà glielo che la madre col cucchiaio cercava da mettere questo a un certo punto la madre prende e gli infila sto cucchiaio del minestrone in bocca e ragazzino che fa? O viene così e poi sputa nel piatto come sputa la madre gli danno sganassone te l'ho detto dieci volte, quando c'è la roba in bocca non si sputa in quel momento il marito se la guarda e gli fa ma lei se gira tu sta zitto eh mi raccomando